Il coinvolgimento in un discepolato missionario dovrebbe essere percepito in modo del tutto speciale nelle università cattoliche che per la loro stessa natura sono impegnate a mostrare l'armonia tra fede e ragione e mettere in evidenza la rilevanza del messaggio cristiano per una vita umana vissuta in pienezza ed autenticità. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo il comitato direttivo della Notre Dame University degli Stati Uniti. È essenziale una coraggiosa testimonianza delle università cattoliche nei confronti dell'insegnamento morale della Chiesa e nella difesa della libertà di sostenere tali insegnamenti, precisamente, delle istituzioni formative della Chiesa stessa. A auspico ha detto il Papa che l'università Notre Dame continua ad offrire la sua indispensabile ed inequivocabile testimonianza sulla sua fondamentale identità cattolica, specialmente di fronte ai tentativi, da qualsiasi parte provengano, di diluirla. Grazie a tutti.